Dunque, voi siete il padre della ragazza che mio figlio dice di amare Tannato? 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 Ah, Tannato. Precisamente, e vi assicuro che mia figlia gli porterà un amore inqualificabile. Ha proprio una grande passione quella ragazza. Eresia, eresia. Ma quanto mai si è visto che le palerine hanno la passione? Via, non mi faccia ridere, buon uomo. Signor principe, forse avete ragione. E' vero che le palerine hanno un carattere stravagante, ma mia figlia... Signore, io ero un po' contrario a questo matrimonio. E' vero. Ma poi, vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva il mezzogiorno, piangeva la sera, piangeva la notte... Pianceva sempre. Pianceva sempre. E dissi fra me e me, beh, accontentiamolo e non se ne parli più. D'altronde, lui può fare quello che vuole. Possiede 600.000 lire di rendita. 600.000 lire? Oh, strechetta! 600.000 lire! Ma che cosa sono 600.000 lire? Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adobriamo gli scecchi. Lui lo sa. Gli scecchi. Ogni scecchi è così. Grazie.